buongiorno a tutti allora 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 roma genova coppa italia ultima partita della settimana poi settimana prossima ci sono le altre quattro si giocherà mercoledì e giovedì addirittura tre partite al giovedì una al mercoledì la cosa triste giovedì alle 15 giovedì alle 18 giovedì alle 21 mentre invece al mercoledì giocano direttamente alle 21 meno male allora ragazzoni roma genoa è stato un attimino meglio di fiorentina sadoria a parte il record di calci d'angolo che ha battuto la roma perché forse è arrivata anche a superare i 20 corner adesso vado vado a controllare perché non perché erano a 15 erano ancora nel secondo tempo eccetera eccetera non era neanche metà secondo tempo più o meno erano già arrivati a 15 vediamo quanti corner ha battuto la roma solo 16 pensavo di più 16 corner a 1 questo per dirvi la differenza tra le due squadre anche se il genoa non è che è stato lì a guardare fatto un paio di ripartenze tra cui uno con coda che non marcava il sciarawi pensate se non sbaglio era il sciarawi che è dovuto ripiegare per andare su su coda che ha fatto un tiraggiro a due all'ora e lui patrissio se l'è presa bella comoda la pallina senza nessun problema sembra un'azione più pericolosa perché come al solito hanno paura no sei in area di rigore hai davanti un giocatore che non è il difensore puntalo ti stende no deve fare il tiro ti sta davanti gli fai il tunnel lo passi ti stende rigore espulsione e cambi la partita no deve fare il tiretto almeno tira di collo pieno un missile costringi il portiere una pala no il solito tiro di piattone debole debole comunque 25 tiri a 7 per la roma cioè non c'è stata gara nel primo tempo pellegrini che poi è uscito nella ripresa per una botta qualcosa vedremo se domenica ci sarà o meno però hanno preferito tenerlo fuori entrato di bala che poi ha fatto la differenza azione da paura del di balito servito sulla tre quarti no un po più avanti della tre quarti eccetera controllato la palla se l'è spostata un po verso sinistra poi ha puntato l'area ne ha saltati un paio è entrato di cattiveria in area di rigore ha sparato il missile ancora più di cattiveria palla sotto sotto la attraversa e ciao ciao portiere della genoa e tra l'altro c'è il gila e c'è il gila in panchina dal genoa non c'è più blessin visto che molti dicono abbiamo in zaghi e prendiamo blessin magari qualcuno è contento di avere anche blessin in panchina piuttosto che in zaghi e sorvogliamo su queste cose no però mi spiace che abbiano permette da un po è che l'hanno esonerato però mi dispiace perché blessin l'anno scorso non mi dispiaceva come quando arrivò il genoa si mise a giocare decentemente poi miracoli non è che si possono fare però ripeto dove era malaccio come però si vede che i risultati poco positivi visto che il genoa in serie b avrebbe dovuto fare il missile partire a missile e dire ciao io vado direttamente in serie a invece mi sembra sia in piena zona playoff però è in piena zona playoff non è né il primo né secondo e invece tutti si aspettavano un genoa a razzo un cagliari più o meno a razzo invece il genoa è in zona playoff il cagliari è lì lì è lì lì appena fuori appena dentro adesso aspettate che vedo serie b perché non mi ricordo a memoria la classifica mi sembra che anche il genoa non è che sia messo molto bene lasciamo perdere il venezia che è lì in ultima posizione nelle zone basse della classifica sia appena sopra la zona la zona b per intenderci e invece il buon cagliari è undicesimo è undicesimo però è come se fosse nono è a un punto dall'ottava quindi è lì è lì lì l'è lì l'è la che la cercava quindi è la dimostrazione che scusate il bronco di riace che anche lui è d'accordo che la serie b ragazzi è tosta e comunque il genoa è andato a roma ha fatto la sua onesta partita ripeto la roma ha strameritato di vincere magari il risultato più giusto poteva essere un 3 a 1 e non un 1 a 0 attraversa di pellegrini varie occasioni più 16 calci d'angolo battuti tra il genoa cercavano di punzecchiare ogni tanto la roma di riportarsi di fare qualche sortitina in attacco e non è andato proprio in gita 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 la roma al suo l'ha fatto però fa sempre una gran fatica a fare gol adesso vedremo domenica o sabato adesso non so quando ci sarà roma fiorentina ma è partita molto tosta quella è una partita di gran divertimento mi aspetto sperando non finisca sempre una domenica sera domenica sera libidi le roma fiorentina gran bella partita tosta la roma oggi giustamente anzi ieri perché ormai siamo già giovedì anzi a venerdì scusate ha giocato con l'intelligenza ha fatto girare i giocatori ha giocato anche bordo e bove zaleschi eccetera eccetera così fa giocano anche i giovani che è come giusto che sia vittoria meritata gran gol di dibalito che magari morigno avrebbe voluto tenerselo lì in panchina per tenerlo bello fresco per la fiorentina però anche lui ha bisogno di giocare visto che se non erro qualche problemino ce l'ha avuto e quindi minutaggio nelle zampe è sempre meglio averlo molti a milano dicono eh avremmo dovuto ma ragazzi di bala è un attaccante che serve o non serve se non hai luca come anche giocare con di bala lautaro giochi coi puffi fai i cross in mezzo ci vado io e sono 1.80 su più alto e quindi di bala fa il suo gran gol gran gol bello bello un gol alla di bala poi è entrato subito un paio di tiri ben parati dal portiere si è messo in mostra ebbè quando sta bene signori miei di bala il suo lo dice sempre il problema è abram che anche quando ha avuto l'occasionissima e poi va bene in fuorigioco quindi il gol gliela avrebbero annullato la calciata un po' così poi è vero che il portiere ha fatto un mezzo miracolo perché il tiro era ravvicinato però gliela ha tirato praticamente in bocca tiro palla che rimbalza a terra il portiere che la alza ma era dritto per dritto e tu sei al centro della porta è vero che non era semplice perché si è girato in un nanosecondo ha calciato subito però non è non lo so cosa infatti oggi parlavamo col mio amico che c'ha abram ah non è possibile che abram quest'anno eh ragazzi mica sempre è natale poi magari si sveglia eh chi lo sa spero non si svegli questo weekend il buon Tommy Abram visto che ce l'ho contro il fantacalcio però può fare un girone di ritorno alla grande magari arrivare a 15-16 gol lo stesso anche se adesso ne ha fatti poche comunque niente non si segna il Coppa Italia non si segna Roma-Fiorentina 1-0 Fiorentina-Sandorio 1-0 Milan-Torino 0-0 poi 0-1 ai tempi supplementari l'unica partita con tre gol è Inter-Parma l'Inter se non prende gol non è contenta ma come penso sempre nel calcio conta o fare un gol in più o prendere un gol in meno la fine della fiera cambia un cazzo scusate il francesismo o vinci 3-2, 4-3, 5-4 eccetera eccetera o vinci 1-0 ma alla fine della fiera non cambia niente prendi 70 gol e ne fai 140 vinci tutte le partite 2-1 o 4-3 e se 4-3 perché se prendi 70 gol vuol dire che mediamente ne prendi più o meno 2 a partita e ne fai 3 anzi di più più di 3 la proporzione è quella ci sono 38 giornate hai preso 70 gol 70 diviso 38 viene circa 2 gol a partita se ne fai 140 su 38 vuol dire che ne fai 3 abbondanti a partita quasi 4 o se no fai come il Milan di Capello quell'anno che prese una dozzina di gol ne fece 40 arrivò a 40 a malapena in 34 partite una media di un gol e qualche cosa a partita però ne prendevo un terzo quindi il calcio è un gioco semplicissimo io sinceramente preferisco magari vincere i 4-3 4-3 4-3 perché così o meno la gente si diverte certo rischi di infarto tutte le volte però piuttosto che vedere degli squalli di 1-0 di una noia mortale in cui trovi il gollonzo e poi soffri come un cagnaccio abbiamo fatto un anno e andava bene se si vince una lunga sofferenza per arrivare alla vittoria mi sta bene però se devo soffrire preferisco soffrire con i 4-3 eccetera così ci si diverte anche un attimino di più ricordo il derby dell'andata non sapevo come era finito perché stavo ancora lavorando al ristorante mi hanno solo detto non ti diciamo il risultato però è stata una bella partita effettivamente è stata una bella partita poi abbiamo perso ma vabbè è stata una bella partita comunque non si segna in Coppa Italia vedremo settimana prossima per ora 4 partite 6 gol di cui uno nei tempi supplementari tra l'altro e vediamo settimana prossima come va settimana prossima le partite si fanno toste perché c'è Napoli cremonese potrebbe finire in goleada Atalanta Spezia potrebbe finire in goleada Lazio Bologna potrebbe venire fuori dei gol e Juventus Monza non la do tanto per scontato attenzione perché il Monza gli ha già fatto lo scherzetto in casa la Juve attenzione che sarebbe abbastanza clamoroso che dopo il Milan mi salta anche la Juve per noi interisti sarebbe l'apoteosi poi dopo andiamo fuori con l'Atalanta e vabbè sorvogliamo così poi ci prendono per il culo a noi io mi auguro che stare schisci è meglio perché fare le battutine eccetera poi il karma te lo fa pagare meglio stare schisci aspettare vedere come va e poi vedremo comunque pare che l'Inter giocherà in casa con l'Atalanta il 31 gennaio quindi subito subito i quarti subito al 31 di gennaio partita secca e quindi avremo un bel Fiorentina a Torino l'Inter giocherà in casa probabilmente con l'Atalanta sono curioso di vedere tra Roma se passa la Napoli con la Cremonese come è probabile chi giocherà in casa perché potrebbe fare la differenza anche se il Napoli a Roma ci ha vinto in ogni caso ragazzi miei anche la Roma passa il turno quindi tutte le big a parte il Milan hanno passato il turno l'Inter col Parma con fatica la Fiorentina senza infamia senza lode e la Roma meritatamente direi non c'è nulla da dire vittoria meritata anche la Fiorentina è meritato con la Sampdoria però a differenza della Roma diciamo che forse il Genoa è stato un attimino meno arrendevole rispetto alla Sampdoria ecco per intenderci in ogni caso le due squadre di Serie B che avevano passato il turno sono state eliminate negli ottavi come era prevedibile vedremo settimana prossima le sfide abbastanza scontate tra le quattro sorelle Napoli Atalanta Lazio Juventus che affrontano quattro squadre di Serie A che potrebbero potrebbero dare fastidio diciamo che rispetto a alle gare di questa settimana mi sembrano ancora più scontate queste Napoli Cremonese Atalanta Spezia Lazio Boronia Juventus Monza se io dovessi dire chi rischia in proporzione vi direi in primis la Lazio a pari merito Atalanta e Juventus e poi per ultimo il Napoli il Napoli penso che sia la squadra che rischia di meno tra l'altro giocano martedì martedì giovedì 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 boh va bene sempre queste cose qua era così bella la Coppa Italia andate a ritorno col gironcino all'inizio con 5 squadre messe assieme squadra di serie A 2 di serie B 2 di serie C oppure 2 squadre di serie A una forte una così così 2 di serie B una di serie C facevano le 5 partite o le 4 partite le 5 squadre una affronta le altre 4 2 in casa 2 in trasferta a caso le prime 2 passavano il turno le altre andavano a casa era così bello una volta o passava la prima adesso non ricordo se passava la prima o passavano le prime 2 invece adesso ste partite secche così d'altronde non c'è tempo non c'è tempo e poi dopo ci sono le surprise ogni tanto raramente comunque 3 su 4 hanno passato il turno vedremo se settimana prossima avremo l'ampleno o meno in ogni caso ragazzoli mi sono dilungato troppo vittoria meritata della Roma sul Genoa poteva essere 3 a 1 era più bello però alla fine 1 a 0 il gol di Dybala vale il biglietto penso che i romanisti possano essere soddisfatti o moderatamente soddisfatti alla fine della fiera sono ai quarti e poi vedremo se ci sarà Roma Napoli o Roma Cremonese già tutti preoccupati oddio Roma Napoli chissà cosa succede tutte la polizia guardate dopo Inter Napoli in cui fortunatamente non è successo nulla io mi auguro che le tifoserie nel 2022 imparino a prendersi per i fondelli allegramente senza più bisogno di venire alle mani mi auguro perché il calcio dovrebbe essere lo sano sfottò sano divertimento e nulla più cosa che qui sul lago dove sono succede perché noi possiamo vedere le partite tutti assieme di squadre diverse ogni tanto alla Pibar c'è gente dell'Inter del Milan della Juve ogni tanto c'è qualche anche ragazzo che ti fa Napoli io ricordo un Inter Napoli anni fa quando ci purgò Iguain il suo errore di Ranocchia sul fallo laterale stavo vedendo la partita con due ragazzi napoletani non è successo niente complimenti alla fine della partita e basta nulla di che e questo dovrebbe essere il bello del calcio però capisco che per molti è una cosa non possibile poi il sano sfottò ci sta me lo sono sopportato l'anno scorso quando l'anno scorso sì l'anno scorso posso dirlo ormai siamo nel 2023 eravamo all'Happy Bar a vedere la partita erano quasi tutti i milanisti e ci siamo presi un po' di insulti però c'erano anche gli stessi milanisti che mi conoscono Gigi dai vieni a fare il selfie con noi anche se hai perso fa niente quindi poi ci prendevamo i nostri vaffanculo e va bene non succede mica niente sono sani sfottò e stop che lasciano il tempo che trovano e finiscono quando è finita la giornata ecco nel caso in cui uno vinca eccetera però capisco che io da diversamente giovane lo posso dire forse quando avevo 16 17 18 anni non dicevo un po' meno ecco poi vabbè io fortunatamente non ho mai avuto problemi con le tifuserie delle altre squadre a San Siro spesso al primo verde vedevo le partite con di fianco un milanista uno juventino io ero lì a scrivere i miei pseudo articoli per me stesso poi dopo regalavo il libro allo zio Bergomi quando andavamo a cena con l'interclub indipendenza di Trezzano sul Naviglio e non c'era nessun problema mi dicevano scrivi che quello lì ha fatto l'occasione eccetera sto scrivendo scrivi che siamo più forti di voi e va bene comunque niente ragazzoli mi sono divagato un attimino perché Roma Genova 1 a 0 c'era poco da dire non è che è venuta fuori la partita del secolo anzi un pochettino meglio di Fiorentina Sampdoria ma alla fine della fiera massimo risultato colbidico e buon sforzo anche per la Roma Grangoldi Dybal ecco se vogliamo mettere questo Grangoldi Dybal detto questo ci vediamo alla prossima ciao ciao